Ha avuto luogo l'audizione delle regioni interessate dalla ricostruzione post-sisma e del commissario, nel corso della quale sono stati illustrati i progetti proposti per l'utilizzo delle risorse del Recovery Plan. Il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza destina 1 miliardo 780 milioni di euro alle aree colpite dal sisma, una cifra che, come hanno sottolineato gli intervenuti, è inferiore rispetto alla prima stesura. Nel suo intervento il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha sottolineato l'unità di tutti i territori e il fatto positivo è che i progetti presentati siano il frutto di una sintesi di tutti i soggetti interessati. Marsilio ha sottolineato l'importanza di garantire investimenti per quelle infrastrutture materiali come strade e ferrovie che erano già carenti prima del sisma e che producono l'isolamento e la marginalizzazione di questi territori. Alcuni progetti, peraltro, già da tempo in progettazione ma mai finanziati, come la Pedemontana Ascoli Teramo o il Quinto Lotto della Montereale Amatrice.